Gesù, prendimi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi invochiamo il Tuo nome vivo e potente. Scendi nelle profondità del nostro cuore e sveglia in noi la gloria della Tua risurrezione. Un giorno Tu ci immergesti nelle acque del Battesimo e dalla morte emerse la vita. Tu ci donasti il respiro dello Spirito, ma è rimasto imbrigionato nelle profondità del nostro essere. Amen. Soffia su di me, sui miei fratelli e sorelle. Libera in ciascuno la forza dello Spirito. Fai sprigionare l'energia divina sepolta viva e inonda dell'acqua zambillante a vita eterna il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima, tutte le nostre forze, perché possiamo gustare e testimoniare la dolcezza del Tuo ineffabile amore. Da ora e per l'eternità. Amen. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.